Ciao a tutti, tre consigli per riavvicinare un uomo che se n'è andato. Allora, in questo video voglio darti tre consigli per poter riavvicinare un uomo che si è allontanato, un uomo che se n'è andato. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite, potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, veniamo al tema tre suggerimenti, tre consigli, per riavvicinare un uomo che se n'è andato. Allora, intanto se sei malgasciona e hai perso un uomo che se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato, non devi stare a soffrire perché perché c'è una cosa che devi sapere tranquillamente che il mondo è un mare pieno di pesci, quindi che te ne frega se hai perso un'acciughina, potrai trovare uno sfilatino, potrai trovare uno squalotto, potrai trovare un tonno, anzi vai alla ricerca di tonni, e questo è, potrai trovare un cefalo, un cefalo di quelli, e l'acciughina l'è persa, amen, no, da un certo punto di vista. Però, intanto tieni presente questo, che quando un uomo prende le distanze, diciamo, quando è iniziato una relazione, all'inizio di una relazione, o quando è che sia, ci sono tre consigli fondamentali che possono ribaltare la situazione. E allora voglio darti questi tre consigli, perché nonostante sei malgasciona, te lo meriti, insomma, di ricevere questi tre consigli che ti possono aiutare a invertire la rotta, a cambiare la situazione, quindi te li voglio dare. Allora, malgasciona, il primo consiglio, il primo suggerimento è quello di non farti venire la fretta di cogliere dietro. Non devi seguirlo! Si consiglia, o meglio, ti consiglio, di prendere le distanze, ricaricare le tue batterie, ricaricarti di energie e fottertene, assolutamente fottertene e ritrova la fiducia in te stessa. È assolutamente necessario che tu ti ricarichi, te ne fotti e ti trovi altre situazioni. Questo è importante. Il secondo punto, che è veramente un punto fondamentale, è che devi portare azioni, ma non mettere sentimenti in questa relazione. L'amore lo devi togliere, perché se una persona se ne va, comunque le devi togliere l'amore, perché ci sono due cose che sono incompatibili. L'amore per se stessi è il lasciare che venga oltraggiata la propria dignità. Quindi tu non devi permettere a niente e a nessuno che possa oltraggiare, che possa rovinare la tua dignità. Non devi permetterlo a niente e a nessuno. Quindi l'unica cosa che devi fare è evitare che venga oltraggiata la tua dignità. E per fare questo devi praticamente concentrarti su delle azioni e togliergli l'amore. Quindi agisci da un punto di vista logico e razionale. E per agire, diciamo, devi anche renderti conto che tu sei importante. Quindi il fatto che tu faccia questo andrà ad aumentare la tua autostima. E poi il terzo punto, altro punto fondamentale, è che devi, è essenziale per te avere una vita sociale online o offline, se possibile, ricca. Uscire, cercare di trovare connessioni con tante persone. Devi diventare assolutamente la migliore versione di te stessa. Mettiti figa! renditi piacevole, seducente. Diventa una donna attraente. Diventa una donna d'eccezione. Diventa una donna eccezionale. Ma solo tu puoi farlo. Non devi stare a elemosinare l'amore. non devi l'emosinare niente. Tu hai tutte le possibilità. Ecco, se farei queste tre cose, lui le percepirà, perché siamo tutti in interconnessione profonda. Abbiamo tutti una connessione. Non siamo slegati l'uno dall'altro. siamo tutti connessi. E allora questa connessione devi alimentarla. Devi dargli energia. Devi dargli forza. E tutto quello che farai dentro di te si repercuterà fuori di te. Perché questo te lo voglio dire. È un fatto molto importante. La tua realtà interiore, la tua realtà interna è soltanto una realtà che andrà ad essere proiettata su quell'esterna e genererà l'ologramma. Secondo la teoria quantistica di Bohm, David Bohm, quello che noi abbiamo dentro è la, potremmo dire, la parte creativa dell'ologramma che poi proietta sulla realtà. quindi tu diventa la parte migliore di te stessa e vedrai che la vita diventerà migliorerà per te. Questo è un dato fondamentale. Ma ci devi mettere energia. Ci devi mettere forza. Ci devi mettere vitalità. Non puoi lasciare che le cose vadano a caso. Perché se vanno a caso vanno male. Tu devi concentrare le tue intenzioni su quello che vuoi ottenere e se questo se quello che vuoi ottenere è che lui si avvicini tu non cercarlo, non prenderlo in considerazione, concentra su te stessa, vedi altre persone e vedrai che ritornerà. Sembrerà un fatto magico, sembrerà un evento fatato ma vedrai che ritornerà e ritornerà più innamorato di prima. ma non per motivi particolari per qualcosa di strano semplicemente perché ci hai messo l'intenzione e ti sei presa cura di te stessa provare per credere. Comunque la cosa fondamentale è che lui capirà che la tua vita è più piacevole della sua e rimpiangerà sicuramente la scelta che ha fatto e tornerà con la coda in mezzo alle gambe. Bene, per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento abbonamento base con lezioni mirate abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar dal vivo abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica ciao a tutti